Ed eccoci qua, torna, time's up, torna alle origini, torna parlando di rugby. Lo fa in occasione del mondiale del bicentenario, perché siamo a 200 anni da quando nel collegio di rugby William Webellis avrebbe, perché non è stato mai dimostrato, preso il pallone con le mani e portato in un'area di meta che allora non c'era ma oggi c'è, però noi ci crediamo e quindi per noi il mondiale del bicentenario. Ci sono due storie da raccontare di queste prime partite. La prima è la storia che prenderà più tempo di questo racconto, che è la storia del Cile. Il Cile ha esordito ieri contro il Giappone, una sconfitta per 42 a 12. Il Cile trova il mondiale di rugby a 50 anni dal colpo di Stato che restituì il governo democraticamente eletto di Salvador Allianne, che istituì per 15 anni la terribile dittatura di Augusto Pinochet. Quindi c'è anche questa coincidenza storica non da poco, perché poi anche il rugby ha incrociato tanto la storia delle dittature sudamericane, tanto si è scritto sul rapporto tra rugby e dittatura di Videla, quindi la dittatura argentina, però ci sono anche piccole e grandi storie di rugby e dittatura nel Cile. Sono storie raccontate soprattutto là, però è l'auspicio magari che si riescano anche a raccontare in Italia alcune di queste storie. Il Cile come arriva al mondiale? Il Cile arriva... bisogna partire da tre anni fa per capire come il Cile è arrivato a questa competizione. Lo arriva a partire dall'istituzione tre anni fa del Super Rugby Americas, che è una specie di versione del nord e del sudamerica del Super Rugby, quindi una competizione per franchigia internazionale, e una competizione che include anche una squadra cilena, la squadra del Selknam, una squadra che in questi tre anni di campionato ha fatto anche dei risultati sicuramente onesti, perché ha raggiunto prima un terzo posto, poi una qualificazione ai playoff, poi la semifinale, quindi comunque giocando rugby per quel livello tutto sommato apprezzabile, perché la storia del Selknam è importante? Perché il Selknam ha fatto da vettorale nazionale, quindi praticamente i migliori giocatori che giocavano nel campionato locale cileno hanno avuto la possibilità di mettersi insieme e di giocare in un campionato più rilevante e anche di poter provare e poter costruire un lavoro insieme. Questo lavoro di tre anni ha portato la nazionale a essere competitiva a livello latinoamericano, a vincere i relativi gironi e a qualificarsi agli spareggi intercontinentali per poter andarci al mondiale. Allo spareggio ha affrontato gli Stati Uniti due battaglie tesissime, io vi consiglio soprattutto la seconda giocata a Dallas, una partita incredibile giocata nella tempesta veramente del rugby di una volta, dove il Cile con un match di grandissima intensità e orgoglio è riuscito a ribaltare le sorti di quell'incontro e a eliminare la squadra statunitense sulla carta più quotata e con una tradizione in più, nonché anche degli scorsi economici che gli Stati Uniti vuole portare avanti per far accrescere la pallovale laggiù. E la mancata qualificazione a questo mondiale, diciamo così, mette in difficoltà per il prossimo futuro. A sorpresa invece c'è andato il Cile, che quasi per intero è composto da giocatori che giocano nel Selcran a parte tre, che sono Matthias Dittus, sono Ignaki Ayarsa, estremo che contro il Giappone ha giocato titolare, e poi la terza linea Martir Sigran, che gioca in Inghilterra al Doncaster, squadra della seconda serie inglese, ed è il capitano un po' di questo gruppo. Il Cile, visto ieri contro il Giappone, è un Cile che ha delle individualità anche molto interessanti, per esempio a me ha fatto un'ottima impressione la mediana, composta dal migliore di Mischia, Torre Alba, e dal migliore di apertura a Rodrigo Fernandez, che giocano entrambi insieme a Seckman, quindi hanno anche un anno di campionato per provare le soluzioni in situazioni di gioco, e si è visto un'ottima affinità tra loro due, e anche delle buonissime letture. Il Cile arriva sicuramente con l'entusiasmo della squadra che non ha nulla da perdere, arriva con la volontà, il piacere di giocare, anche di provare a mettere in difficoltà le avversarie di un girono complesso, perché c'è il Giappone, c'è l'Inghilterra, c'è Samoa, e c'è soprattutto l'Argentina. La sfida con i Pumas sarà sicuramente quella più sentita da parte dei giocatori cileni, anche per la rivalità storica che c'è, non solo nel rugby, attenzione, è proprio a livello culturale che c'è tra Cile e Argentina. Quindi potenzialmente può essere una grande partita alla luce di due aspetti. Il primo è la partita dei Pumas, perché i Pumas, nonostante gli 80 minuti, sostanzialmente con l'uomo in più per l'espulsione di Tom Curry, in realtà meno, non solo perché Curry è stato espulso al quarto minuto, ma anche per il giallo contro Santiago Carreras, che ha comunque ridotto il tempo di superiorità numerica per gli argentini, una squadra che è crollata sul piano tecnico e nervoso, e si è fatta dominare da un Giappone perfetto dal punto di vista difensivo, più i tre drop e capolavoro di George Ford. Però questa Argentina qua, vista contro gli inglesi, comunque il rischio di non passare la prima fase, che sarebbe un risultato durissimo per i Pumas, che vengono comunque da anni importanti e anche da ottimi risultati, anche nella competizione mondiale, ricordiamo anche solo la semifinale del 2015, si troverebbe un Cile che di contro esce dalla prima partita molto rinfraccato, perché ha giocato bene per 55-60 minuti, poi è crollato sotto la superiorità tecnica dei giapponesi, tecnica fisica dei giapponesi, anche di organizzazione tattica, però il Cile si è fatto valere, è andato in meta subito, è stata una meta anche entusiasmante per il clima che c'era sugli spalti, il Cile ha ricevuto anche molto sostegno, anche dal pubblico giapponese, che ha visto proprio l'entusiasmo e la voglia di questa squadra, che ha giocato bene, ha offerto buone trami di gioco, sicuramente paga molto sul piano fisico, il gap fisico è quello principale, dal punto di vista del gioco è un Cile assolutamente godibile, che vuole misurarsi col mondiale, e se una big l'affronta sotto gamba, o con delle difficoltà nervose, rischia di pagarne il conto, magari non di perdere la partita, perché magari alla lunga ne viene fuori, ma di doversela sudare seriamente, e quindi attenzione a Samoa, che comunque ha molto da dimostrare, considerando tutta la questione dei giocatori inseriti, con il passato nelle selezioni di Oblex, e Australia, che con la nuova riforma sono passati alla nazionale Tongana, parliamo di una riforma fatta da Warwick di recente, per cui determinati giocatori, che per molto tempo non hanno indossato più la maglia della nazionale, con cui l'hanno giocato in precedenza, possono passare a un'altra nazionale, e di questa cosa ne hanno beneficiato soprattutto le squadre polinesiane, perché molti giocatori magari vanno a giocare con Oblex e Australia, magari giocano poche partite, e poi vedono un po' pregiudicata il loro cammino internazionale, anche a causa della grande concorrenza comunque che c'è, in Wallabies e Oblex. L'ultima grande storia da raccontare attorno al Cile riguarda il tecnico, Pablo Lemoyne, il tecnico uruguagio, perché è una grande storia, perché Lemoyne ha questa cosa fantastica, Lemoyne è la seconda volta che si lega a un esordio di una squadra al mondiale, perché Lemoyne è l'allenatore di questo Cile, ma ai tempi in cui giocava era nella rosa dell'Uruguay del 1999 che esordiva al mondiale, e quindi Lemoyne ha scritto non solo la pagina della storia del rugby del suo paese, ma anche quella di un altro paese, cioè quello del Cile. Ultima cosa, attenzione all'Uruguay, lo Steros sono una squadra sicuramente interessante, guidata dall'Eterno Berscesi, signor giocatore con anche un passato anche in Italia, aveva giocato per esempio al Valpolicella in provincia di Verona, e si trova nel giro dell'Italia, quindi l'Italia sarà anche la prossima partita che affronterà la squadra dei Crauli, l'Uruguay non è una corazzata, però è una partita sicuramente più probante rispetto a quella con la Namibia, e la squadra e gli azzurri non possono prendere la sottogamba. Il secondo tema di cui voglio parlare oggi riguarda chiaramente la partita della settimana, che è quella pazzesca vista tra Galles e Fiji. Una partita finita a 32-26, risotto incredibile con le Fiji che hanno avuto all'ultimissimo secondo la chance per vincerla con un lungo passaggio che purtroppo è caduto in avanti, quindi io dico purtroppo perché a parte il rumore assordante del pubblico, ma basterebbe vedere tutti i commenti a livello mondiale quanto sostenessero le Fiji che andate sotto anche parecchio nel punteggio, poi piano, 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 hanno rimacinato campo e hanno veramente trovato le occasioni per portarla a casa. Perché c'è da parlare di questo? Intanto ci sarebbe da parlare dei Fiji che hanno giocato, continuano ad essere una squadra esaltante per proposta di gioco e avrebbero tutto per passare il primo girone e lo meriterebbero secondo me per i rugby che hanno espresso nell'ultimo anno, quindi veramente grande attenzione ai Fiji che partono dovendo recuperare sull'Australia e sul Galles, ma adesso vedremo cosa accadrà, sono obbligate a non sbagliare, vedremo se sarà in grado di reagire alla pressione nervosa. Perché parlare di questa partita? Non solo perché andrebbe rivista, per le cose incredibili, io ne sottolineo una dal lato gallese, è stato premiato come Menno de Match de Miggar, ma io avrei premiato Nick Tompkins, che ha una storia secondo me incredibile, perché Tompkins è un giocatore che io avevo ammirato ancora otto anni fa in occasione del Mondiale Under 20, che si era disputato anche qui a Brescia, e Nick Tompkins all'epoca non giocava con il Galles, ma con l'Inghilterra, perché era una delle grandi promesse del rugby inglese, a vent'anni era già nella rosa dei Saracens, e mi ricordo in quel periodo che ci fu una diatriba tra la federazione inglese e i Saracens, perché Tompkins era in Italia per prepararsi al Mondiale Under 20, e i Saracens l'avevano convocato per una semifinale di primership, e quindi c'era stato tutto il modo per organizzargli il volo, e quindi c'era stata tutta questa discussione a cui avevo assistito all'epoca tra la RFU e i Saracens il club dove gioca ancora Tompkins, poi Tompkins è uscito un po' dai radar della nazionale inglese, e alla fine se l'è preso il Galles, e per me resta un giocatore di grandissima tecnica, di grandissima intelligenza tattica. Perché parlare anche comunque della partita? Perché nella partita si è vista una cosa non bellissima che secondo me comunque va messa in campo. Nel rugby si dice sempre che gli arbitri sono gli arbitri, non vanno contestati, questo sicuramente è la parte di chi gioca. Fuori però c'è da riflettere su un dato di fatto, che purtroppo è molto forte, che è il doppio standard che c'è tra le squadre di Tiger 1 e le squadre di Tiger 2 oppure di Tiger 1, ma un e mezzo diciamo così. Quindi comunque tra i colossi del rugby europeo e australe con tutto il resto è un doppio standard che c'è, ci sono purtroppo tanti esempi, e che pone tante questioni secondo me attorno al modo di gestione. L'arbitraggio di Matthew Carley, che sulla carta ha anche un ottimo arbitro, è stato decisamente discutibile. Perché l'arbitro già nel primo tempo aveva giustamente richiamato le due squadre perché c'erano state alcune situazioni da entrambe le parti in cui si era un po' ecceduto. E quindi giustamente aveva detto ora basta, dopo questa comincia a mettere mano al cartellini. Non l'ha fatto, o non l'ha fatto come avrebbe dovuto. Perché quando le Fiji, dopo la meta del 25-14, sono tornate alla carica, hanno avuto grandi occasioni per segnare, il Galles ha commesso tanti falli ripetuti, tanti falli professionali a pochi metri dalla linea di meta. E lì un giallo andava fatto. Lì Carley ha richiamato, ma non gli ha dato il cartellino. Poi ha richiamato ancora e non ha dato il cartellino. Non è stata una gestione corretta. Anche perché quando poi si è ribaltato il fronte, in occasione di quella poi che è stata la meta del 32-14, su una rolling ball, un giocatore Fijiano aveva commesso un fallo professionale, un fallo volontario chiarissimo della mall che stava dirigendo verso l'area di meta e giustamente Carley è passato al cartellino giallo. Su una situazione ineccepibile tu lo dai e dall'altra parte di situazioni ineccepibili ce ne erano almeno 4 di cui 2 di Dan Biggar che io ripeto sono soppeso che sia stato nominato migliore in campo. A me non è piaciuto non è piaciuto anche l'atteggiamento di confronto di George North perché le urla date contro il suo compagno di squadra in due situazioni dove sì, North ha sbagliato, doveva smistare meglio la palla, non doveva buttarla, dove era un po' più cura alla North perché è in grado di fare giocate tranquillamente alla sua portata. Però boh, un atteggiamento di Biggar discutibile diciamo. e poi sul cambiamento di campo dopo la meta gallese è arrivato un altro cartellino. Un po' strano considerando che poi nell'assalto finale figiano ci sono state almeno altre due situazioni chiare di falli professionali e l'arbitro ha dato un altro richiamo ancora. Su questa gestione sicuramente Carling non ha fatto il suo. Ha sbagliato, ha commesso degli errori e su questo c'è da riflettere dal punto di vista riquistico. Questo non vuol dire fare la cagnara contro gli arbitri. Le figi hanno perso anche per propri demeriti, per sfortuna, per tutta una serie di situazioni. L'importante secondo me la cosa da dire in questa situazione è che degli arbitri più attenti, più equilibrati rafforzano anche un tipo di gioco, un tipo di partita che l'avrebbe meritato. Perché dare uno barra due cartellini in quelle situazioni sarebbe stato giusto e avrebbe reso la partita ancora più incredibile e probabilmente a prescindere dal risultato l'avrebbe fatta veramente passare alla storia. Come fu il leggendario Galles Fiji del 2007 vinto dai figiani e che ancora oggi è ricordato come una delle partite più incredibili della storia della Rugby World Cup. Ci sono state molte lamentele soprattutto da parte inglese sempre Gilda Galles e ci sono state anche le lamentere secondo me giustissime di una persona che si sosteneva le figi però io reputo comunque super partenze per l'enorme competenza e per l'amore clamoroso che ha per questo gioco e per la voglia di tutelarlo da tutte le strutture prima di tutto quelle fisiche che è il grande Ben Ryan Ben Ryan è stato l'allenatore che ha portato le figi a vincere l'Olimpiade di Rio quindi portando una medaglia olimpica sull'arcipelago polinesiano è molto legato a quel territorio e Ben Ryan durante la partita ha scritto parole di fuoco sono parole forti da parte del grande Ben Ryan ha per me ragione e sono convinto che da appunti come questi che bisogna ripartire perché servono ad avere un gioco ancora più bello ancora più emozionante soprattutto adesso che i colossi sono un po' meno colossi e i lillipuziani per usare Gulliver sono un po' meno lillipuziani un po' più attrezzati magari non ancora pronti per sfidare davvero i colossi quindi essere a pari grado però possono far male quindi un mondiale ancora più competitivo ancora più interessante ancora più sorprendente e ancora meno scontato solo su una cosa il mondiale per me è stato scontato almeno in queste prime partite in Sudafrica io concludo con Sudafrica perché Sudafrica è stata enorme ha giocato una partita puro rugby sudafricano difensivamente asfissiante l'intelligenza di Fafleclerc la classe di Colby un grande grande Sudafrica con cui anche quest'anno bisognerà fare i conti Time's Up termina qua tornerà nei prossimi giorni a parlare ancora una volta del mondiale di rugby 2023 23 grazie a tutti